Buongiorno a tutti, oggi continuiamo il nostro viaggio nel mondo della fisica parlando ancora di forze e oggi parleremo dell'equilibrio dei fluidi in particolare. Dunque, andiamo a vedere subito un concetto fondamentale, ovvero abbiamo bisogno di definire che cos'è la pressione. Quindi fino adesso abbiamo parlato di forze, ma la domanda che ci poniamo a questo momento è una stessa forza ha sempre lo stesso effetto. Dunque, per capirlo possiamo ad esempio fare un esperimento, lo possiamo anche pensare idealmente perché sarà successo a tutti, ovvero se premiamo su un palloncino che è stato gonfiato con aria e chiuso, se noi premiamo su questo palloncino con un dito, il nostro palloncino si deformerà. Se premiamo sul nostro palloncino con la stessa forza, con la stessa intensità, ma stavolta con uno spillo, il palloncino esploderà. Quindi questo ci fa pensare che la risposta alla nostra domanda è no, ovvero non sempre una stessa forza ha lo stesso effetto. Da cosa dipende questo? In questo caso c'è una differenza tra i due esperimenti, ovvero la superficie su cui si distribuisce la stessa forza è diversa. Quindi in questo caso parliamo di pressione, quindi il palloncino è sottoposto a una diversa pressione. La formula che ci dà il valore della pressione corrisponde al rapporto tra una forza applicata e la superficie. La pressione si misura in pascal che si indica con pa e quindi sarà uguale a un newton, perché la forza come sappiamo si misura in newton, su un metro quadrato che è la nostra superficie se ci pensiamo bene. Qui abbiamo altri esperimenti che ce lo dimostrano, ad esempio si può pensare di come cambi se noi ci sdraiamo su un materassino da mare in modo orizzontale oppure se proviamo ad alzarci in piedi, cambia molto la pressione a cui noi sottoponiamo il nostro materassino. Stessa cosa lo potete sperimentare anche a casa, provate a vedere quanto si deformerà il vostro materasso del letto se vi sdraiate come questa ragazza oppure se provate a stare in piedi come questo ragazzo. Quindi in questo caso cosa succede? La superficie su cui esercitate la vostra forza sarà minore. Un altro esempio, se ci vogliamo pensare, è quello del fakiro, ovvero queste persone che si distendono su un tappeto di aghi e apparentemente non provano dolore e soprattutto non vengono trafitte. Perché non vengono trafitti? Ecco il trucco svelato, c'entra la pressione, ovvero come vedete in questo caso questa persona è praticamente quasi sdraiata, quindi distribuisce la sua forza peso, in questo caso in una superficie maggiore. Se questa stessa persona magari si mettesse in piedi, ecco lì avremo un problema perché la superficie su cui viene esercitata la forza diminuirebbe e quindi aumenterebbe la forza e quindi questa persona probabilmente si farebbe molto male ai piedi. Quindi la pressione è una forza che comunque ricorre spesso e noi magari non ce ne accorgiamo. Andiamo avanti. Ecco, visto che abbiamo parlato di pressione, adesso approfondiremo un altro concetto, quello di pressione atmosferica. Quindi che cos'è la pressione atmosferica? È la pressione che l'aria esercita sulla Terra. È quindi una forza peso che viene prodotta dalla colonna d'aria su tutta la superficie terrestre. Infatti, nonostante l'aria ci sembri molto leggera, è questo gas che noi non vediamo, non percepiamo, ma sappiamo che esiste, in realtà ha anche una massa e quindi un peso. Quindi esercita una pressione sul suolo e sulle persone, sulle case, sui oggetti, eccetera. Noi dobbiamo immaginarsi l'atmosfera in realtà come uno spesso oceano di aria, qua ho riportato un'immagine scattata dalla stazione spaziale, uno spesso oceano di aria sul fondo del quale noi viviamo. Quindi, a pensarci bene, la pressione atmosferica diminuirà all'aumentare dell'altitudine, ad esempio in montagna, perché come vedete, questa persona, questo scalatore che è a livello del mare, ha una colonna d'aria sopra di lui, molto più grande, quindi ci sarà una pressione atmosferica su questo scalatore maggiore di quella che non c'è sullo scalatore in cima alla montagna. Come vedete, ha una colonna d'aria molto più ridotta e quindi la pressione su di lui sarà inferiore. Quindi la pressione atmosferica dipende dall'altitudine. Ecco, c'è una curiosità appunto per quanto riguarda la pressione atmosferica, ovvero il motivo per cui l'acqua riesce a bollire prima in montagna che non in pianura. Questo ce lo spiega un piccolo video che vi farò vedere. I grandi e i piccoli perché? Perché in montagna l'acqua bolle prima? Se avete una fame da lupi e non vedete l'ora di tuffarvi su un succulento piatto di spaghetti, non dovete far altro che andare in montagna. Salendo in altitudine, infatti, si può buttare la pasta qualche minuto in anticipo rispetto a quando lo si farebbe a casa. Ma perché in montagna l'acqua bolle prima? I grandi e i piccoli perché? Perché in montagna l'acqua bolle prima? È tutta una questione di atmosfera. Ad alta quota, infatti, la pressione atmosferica è molto meno forte che a livello del mare e un liquido inizia a bollire quando il valore della sua pressione interna, che è sempre uguale in tutte le situazioni, arriva ad eguagliare quello dell'aria per effetto del riscaldamento su una fonte di calore. Nel caso dell'acqua, il punto di ebollizione in pianura, dove la pressione è di una atmosfera, si raggiunge a 100 gradi. Soglia sta di vita nel 1742 dall'astronomo svedese Anders Celsius. È proprio da questo valore e dal suo ideatore che prende in nome la scala di misurazione delle temperature in gradi centigradi, detti appunto gradi Celsius. Sulle montagne, dove l'aria è più rarefatta, l'acqua bolle a una temperatura inferiore e quindi più in fretta. Sull'Everest, la cima più alta del nostro pianeta, potremmo buttare la pasta già a 73 gradi, mentre a 1000 metri dovremmo aspettare di arrivare a circa 96. Provate a cronometrare il tempo impiegato nelle due situazioni per vedere la differenza. Oggi hai imparato perché in montagna l'acqua bolle prima. Quindi abbiamo scoperto anche questa piccola curiosità, che appunto è legata al concetto di pressione atmosferica. Continuiamo la nostra presentazione. Ecco, adesso introduciamo invece un nuovo concetto, quello della pressione idrostatica. Che cosa significa? La pressione idrostatica è la pressione a cui è sottoposto un corpo, stavolta immerso in un fluido. Quindi è la pressione a cui si sottopone questo corpo rispetto alla colonna di fluido che lo sovrasta, perché, come sappiamo, anche l'acqua ha un peso. Allora, ci sono alcune leggi che regolano appunto la pressione idrostatica. La prima è la legge di Stevino, che dice che la pressione idrostatica esercitata da un liquido omogeneo, quindi, ad esempio, in questo caso, ad esempio sull'acqua, su una superficie sommersa, dipenderà dalla profondità e dalla densità del fluido, ma non dalla forma del recipiente. Infatti, come possiamo vedere in questo esperimento, a livello di questa linea tratteggiata, la pressione registrata è la stessa in tutti e tre i recipienti, che nonostante abbiano forme diverse, contengono anche diverse quantità d'acqua, ma appunto hanno una stessa densità di fluido e la pressione viene misurata tutti alla stessa profondità. Quindi, in questo caso, vedete, H, la profondità del liquido, è uguale in tutti i casi. Ecco, andiamo quindi a chiarire un altro concetto appena introdotto dalla pressione idrostatica, che è la densità. Ok? La profondità, lo sappiamo che cos'è, dipende appunto dall'altezza in cui immergiamo un corpo, mentre il concetto di densità è un pochino più complesso, ma lo andiamo subito a chiarire. La densità non è altro che il rapporto tra la massa di una sostanza e il suo volume. La densità si misura, quindi, in chilogrammi su metri cubi, perché stiamo parlando appunto di volumi. Quindi, andiamo a vedere un attimino come varia la densità a seconda della sostanza, perché può variare e anche molto. Qua ho riportato alcuni esempi, ad esempio l'olio di oliva ha una densità di 916 kg al metro cubo, mentre l'acqua dolce, quindi quella di rubinetto, attenzione, dolce significa semplicemente che appunto contiene alcuni sali ma in concentrazione minore rispetto all'acqua di mare. Semplicemente questa differenziazione. Comunque, l'acqua dolce ha una densità di 998 kg su metri cubi, mentre, come vedete, l'acqua salata, quindi l'acqua del mare, ha una densità maggiore rispetto all'acqua dolce, di 1025, dopo andremo a un attimino approfondire anche questo concetto. Infine, ho inserito questa sostanza veramente molto densa, con una densità, pensate, di 13.590 kg al metro cubo. Cosa significano queste cifre? In pratica significa che a parità di massa, quindi se prendiamo, per esempio, un metro cubo di queste sostanze, avranno un peso che è indicato da questa cifra. Quindi, ad esempio, un metro cubo di olio d'oliva peserà 916 kg, un metro cubo d'acqua peserà circa 1000 kg, mentre un metro cubo di vercurio peserà addirittura 13.590 kg. quindi è veramente molto pesante, perché è una sostanza veramente molto densa, in questo caso. Quindi, facciamo un esempio, vedete? Quindi, con la profondità abbiamo detto, in questo caso, a parità di densità, perché sono entrambi immersi nel mare, che quindi avrà la stessa densità, questi due sub sono sottoposti a due pressioni idrostatiche diverse. Il sub, chiamato A, è una profondità maggiore rispetto al sub B, e quindi il sub A sarà sottoposto anche a una pressione idrostatica maggiore, che cresce, appunto, abbiamo detto, con la profondità. Parlando di pressione idrostatica, abbiamo anche l'importante principio di Archimede, che dice che i corpi immersi di un fluido ricevono una spinta dal basso verso l'alto, pari al peso del volume di fluido spostato. La spinta che riceve questo corpo immerso nel fluido si chiama spinta idrostatica. E quindi questo va a spiegare una serie di cose, ad esempio, appunto, perché i corpi galleggiano. Ecco, come ognuno di noi avrà notato, al mare, con uno sforzo minimo, si può sostenere una persona immersa nell'acqua, mentre se la persona, mano a mano, emerge, la fatica aumenta progressivamente. Quindi, quando un corpo è immerso in un liquido, sembra che diventi più leggero. Quindi, si nota un'apparente diminuzione di peso. In realtà, un pochino è così. È dovuto proprio alla spinta idrostatica, che abbiamo appena visto. Quindi, un corpo affonderà, se la spinta idrostatica che riceve è minore del suo peso, mentre un corpo galleggerà, se la spinta idrostatica ricevuta è maggiore del suo peso. Noi sappiamo che la densità del corpo umano è di poco inferiore da quella dell'acqua, ed è questo il motivo per cui il corpo umano galleggia, restando però in parte immerso sott'acqua. E la spinta che ci tiene a galla dipende anche dalla densità dell'acqua, dal peso dell'acqua. Infatti, se l'acqua è più densa, e quindi più pesante, la spinta ricevuta sarà maggiore. Ed è questo il motivo per cui si galleggia meglio nell'acqua di mare piuttosto che in quella di lago o di una piscina, poiché queste hanno una densità inferiore all'acqua di mare. E questo spiega anche il fenomeno, esempio, del galleggiamento di un gigantesco iceberg, oppure perché un sasso in acqua va a fondo mentre riesce a galleggiare sul mercuro, che abbiamo visto prima, è veramente molto denso. Lo stesso concetto spiega anche il galleggiamento di navi veramente grandi che non affondano perché hanno grandi quantità di spazi vuoto al loro interno, perché hanno una forma che gli permette appunto di galleggiare e soprattutto perché spostano veramente tanta acqua e questo gli dà una spinta contraria che riesce a mantenere il galleggiamento della nave. La lezione di oggi si conclude qua. A presto! Grazie!